Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle sul caso criminalità nel quartiere Fontanelle di Pescara. Questa volta Domenico Pettinari traccia un quadro completo della questione spaccio di stupefacenti ed il rischio che corrono i giovanissimi addestrati sin da piccoli a delinquere. Stiamo sotto ad alcuni palazzi dove qui quotidianamente si spaccia droga, i cittadini non ce la fanno più, ci sono alcuni pregiudicati che riescono ad incassare oltre 1000 euro al giorno con lo spaccio di droga, con attività illecite e ne pagano appena 15 euro al mese di affitto. Qui si fanno palestre per anche scassinare macchine, aprire macchine, ci raccontavano che alcuni giorni fa dei ragazzini sfondavano delle macchine, entravano dentro, rubavano, quindi c'è tutto il peggio che ci possa essere. Chiediamo sicuramente intensificare il pattugliamento delle forze dell'ordine e servirebbe anche un'unità fissa di polizia in questi posti. E poi abbinato alla prevenzione, a un servizio di assistenza sociale, operatori sociali che vadano in giro per le strade a recuperare i ragazzini, a cercare di integrare, di parlare. Qui c'è un'associazione, ci potrebbero mettere l'assistente sociale, l'abbiamo chiesto a più tempo, niente da fare. E poi ricordiamolo, qualche giorno fa hanno fatto l'ennesima sanatoria in Regione Abruzzo per gli occupanti senza titolo. Questo non è possibile. Gli occupanti senza titolo non hanno diritto di stare nelle case popolari perché privano a tante brave persone che sono in graduatorie da anni di poter accedere a un alloggio popolare. Oggi i cittadini dicono basta e attenzione, i cittadini hanno paura, non ci mettono più la faccia, si nascondano quando vedono le telecamere. Quindi è un pericolo serio, è un'emergenza sicurezza serissima che si sta vivendo in questi posti.